e praticamente gli amici a carapelle sono tipo 3 4 5 diciamo 5 ma sarebbero 6 però vabbè uno non è proprio che esce sempre però diciamo 5 mentre appoggia eh c'è solo di più ah minchia è vero non ho contato i miei compagni di classe eh di questi 10 che ci sono appoggia 5 sono miei compagni di classe io ho contato solo gli amici che non vengono in classe con me e quali sono solo di carapelle cioè del mio peso invece nella mia classe tipo tutti i maschi si no tutti i maschi tra me 3 si cannano madonna ma siamo quanti maschi siamo 12 eh tipo di 9 si cannano getting fun finito oh gg yes nice oh yeah oddio proprio metti soltanto copiabile ma basta ok request stars 10 eh let's go uploaded